roberto giordano chiede sulle tue video sul canale che si è passato in molti trasferimenti anche tra diversi paesi come ha vissuto questi cambiamenti sono pesati umanamente io sono cintura nera di traslochi ho calcolato che nella mia vita ne ho fatti ora non mi ricordo più se 26 o 27 devo un attimo rifare i calcoli ho messo in mezzo anche i tre traslochi fatti con la mia famiglia di origine però nato a taranto cresciuto a bari mi sono trasferito a roma cambiate tante case a roma poi sono andato a londra poi sono andato a bristol poi sono andato in belgio poi sono tornato a roma cambiate varie case a roma poi sono andato a lugano poi sono andato a basilea cambiate varie case anche a basilea tornato a roma secondo trasloco fatto ad agosto ora i traslochi c'è chi li vive in maniera drammatica per me invece alla fine oltre dopo 26 insomma se sei molto abituato a me non terrorizza io un trasloco lo posso tranquillamente organizzare in una settimana e la parte tecnica dei traslochi a me piace perché ogni volta un'opportunità di lasciare andare oggetti ho raccontato anche in un video il mio percorso rispetto al minimalismo non sono minimalista però oggi o il direi 70 per cento in meno degli oggetti che avevo anni fa molto lontano ancora dal minimalismo quello bello pulito ordinato però un grande percorso fatto nel tecnicismo dei traslochi ho imparato tantissimo per cui adesso non mi spaventa dall'organizzazione dei cartoni all'organizzazione delle dei vari passaggi tecnici burocratici e via diverte dicendo quando fai riferimento alla parte umana roberto fai riferimento sicuramente al fatto che cambi città cambi contesto di amici e via dicendo la maggior parte dei miei traslochi li ho fatti da single soltanto l'ultimo passaggio in svizzera avevo una situazione familiare poi in svizzera è nata mia figlia poi c'è stata la separazione via dicendo e sono tornato però quando ti sposti da single ovvio che tenete a mente una cosa in italia non siamo tanto abituati ad avere stranieri persone perché per quanto ci diciamo tanto accoglienti tante cose però in realtà è pochissima la gente che viene in italia per ruoli qualificati molto molto più bassa la percentuale di altre nazioni quindi quando andate in un'azione o nella città se ci siete a brusselle siete a londra siete a bristol cioè ragazzi le città strabordano di persone alla vostra situazione se vedete le community di expat e internations.org i meetup prima c'era italians online o italians all'estero la comunità di beppe severgnini per chi è boomer come me cioè lì ci sono centinaia di migliaia di persone in ogni città che sono la vostra situazione persone che sono arrivate da tre settimane non sanno se staranno lì tre mesi tre anni o quindici anni quindi con voglia di connettere fare network e via dicendo io ero a bristol e ci avevo ero al secondo terzo piano di questa palazzina sopra di me c'era questo questo collega di napoli e ci siamo trovati insieme poi a brusselle cioè lui è venuto proprio abbiamo fatto un appartamento in condivisione o meglio l'ho ospitato nel mio appartamento e quindi abbiamo continuato la tradizione dei pizza party che facevamo a bristol e abbiamo fatti anche a brusselle cioè è molto c'è una grande comunità di persone che si sostengono in questa maniera portandosi dietro ovviamente anche un aspetto effimero nel senso che sai benissimo che determinate relazioni hanno delle logiche diverse non è il sono nato in puglia sono cresciuto a bari sono rimasto lì per 50 anni ovvio che il tipo di rapporti che è lì nel bene nel male sono completamente diversi per cui si perde in un determinato tipo di frondità si è guadagna in un tipo di larghezza e poi va bene ho anche degli amici che per lavoro hanno viaggiato moltissimo con i figli pensate soltanto a chi fa una chi ha una carriera militare internazionale o quelli diplomatici o quelli che hanno dei ruoli che per motivi di carriera devono girare molto e magari ogni 3 4 anni spostano i figli e allora per certe fasce di età sono traumi ogni volta che sposti a mi stai rovinando la vita mi stai allontanando dagli amici tutte quelle cose che vedete anche nei film e però poi magari dopo dieci quindici anni questi si girano dicono però adesso c'ho amici a boston amici a los angeles amici a madrid amici qual è tutto quindi ogni cosa a pro e contro lato tuo devi essere una persona predisposta per queste cose a me piace tantissimo conoscere gente nuova confrontarmi aprire fare network per la parte privata e via dicendo se questa cosa ti piace ti stimola va benissimo io oggi ho amici sparsi in giro per tutta quanta l'europa alcuni in giro anche per il mondo e anche lì paradossalmente sono tornato a roma e il nucleo dei dei miei amici si è sparso di nuovo per cui i miei amici quelli nella cerchia più stretta c'è chi a milano c'è chi in svizzera c'è chi si è spostato in toscana c'è chi a londra perché se sei in un certo contesto è molto facile che chi sta tornando a te abbia anche questi passaggi di di cambi e via dicendo per cui lato mio e la parte traslochi non pesa affatto anzi mi piacevo è un po costoso è perché un trasloco ha dei punti di picco di costi se lo fai per i fatti tuoi non c'è niente di più figo del farsi fare un trasloco professionale pagato dall'azienda cioè ragazzi voi pensate ai traslochi no un mese a preparare gli scatoloni ad ammazzarti a litigare a trovare le cose immaginate quando l'azienda paga i botto di soldi migliaia e migliaia di euro e tu sei con le mani in tasca e arrivano ste dieci persone che in due ore ti impacchettano casa ti impacchettano pure la saliera dal singolo cucchiaino e via dicendo tu sei revertirante con le mani in tasca e mezza giornata impacchettano tutto spediscono e poi in mezza giornata ti riaprono tutto una cosa di lusso no per cui lato mio i traslochi sono sempre stati un'opportunità ne ho fatti tanti anche all'interno della stessa città soltanto a roma ho vissuto in credo in sette case diverse nei vari anni nelle varie zone per cui lato mio va bene è molto affine come sono io e tra l'altro sapete no i discorsi che faccio anche sulla parte immobiliare con 26 traslochi alle spalle ho capito che lato mio l'investire nella casa in cui vivere non ha senso non ha senso nella maggior parte dei casi numericamente per ora entriamo in un altro settore però proprio è una delle cose su cui ci ho fatto pace per cui non mi preoccupo di essere una casa di proprietà qui sono in affitto sono felicissimo perché mi dà tantissima flessibilità mentale ed economica e quindi va benissimo antonio ho vissuto in diverse parti di roma ho vissuto nella zona boccea per chi conosce roma ho vissuto in centro a preghiente a campo dei fiori in via delle zoccolette un anno meraviglioso ho vissuto vicino al parco della caffarella vicino al parco degli acquedotti vicino cine città in diverse parti però quasi sempre sulla direttrice della linea a non mi sono mai spostato verso l'euro o verso roma nord sempre diciamo in direttrice perché anche lì lavorativamente mi spostavo cioè mi spostava in base anche alla situazione lavorativa mi dava questo questo grande vantaggio